Io dico a mio marito che mi ha regalato una giornata stupenda, con tutti questi presenti bellissimi, vi ringrazio tutti, siete fantastici, dico a mio marito che lo amo tanto, che è un uomo speciale, sei felice amore? Io sono immensamente felice, ma per me non è cambiato niente, ieri è come oggi, e oggi sarà con l'omani e spero per tutta la vita. Per tutta la vita, grazie Giorgio, un bacio a te, grazie mille, vi voglio tanto bene!